buongiorno mercoledì cadia di viaggi in giro e qui ormai questa è la nostra frase giusta di sempre allora rimaniamo nel lazio bene rimaniamo nel lazio e siamo andati prima a ballerano poi abbiamo visto anche sperlunga saliamo un pochettino e andiamo a terracina terracina è una cittadina molto carina sembra veramente che sia stata la terra di ulisse infatti quella è anche la riviera di ulisse dicono alcuni era c'era la casa della famosa maga circe lì davanti insomma cosa vedere a terracina cosa mangiare a terracina oppure quella lì c'è che fa la ninna dunque a terracina possiamo vedere anche dalla spiaggia stessa il tempio di anksur che si trova sopra al monte sant'angelo ma tutti lo chiamano il tempio di giove e le spiagge sono molto ampie ci sono parecchi stabilimenti per chi li preferisce la sosta la sosta terracina è una sosta è un parcheggio è un parcheggio nei pressi del porto molto frequentato in estate spesso ci si fermano anche le giostre quindi insomma si deve stare un po attenti a trovare posto perché non è così facile come in inverno dunque per salire su al tempio di giove è una bella passeggiata a piedi oppure più è più comodo magari se sia uno scooter e va bene e perché comunque c'è una strada un po di montagna insomma una montagna ecco poi oltre dopo essere andati in spiaggia aver visitato sul monte sant'angelo il tempio di giove si fa una passeggiata e si arriva anche all'ora di pranzo l'ora di cena e si possono approfittare dei buoni prezzi delle cooperative di pescatori che sono lì alcune davanti al porto e altre sul lungomare un po più in là ci si parcheggia vicino al porto questo l'abbiamo detto mi raccomando sempre nel rispetto della civiltà il panorama è molto bello perché di fronte appunto c'è la montagna del circeo e se la si osserva bene sembra proprio così come è fatta sembra proprio che sia la maga circe addormentata e per qualsiasi domanda o consiglio oppure qualcosa che vi viene in mente che io ho dimenticato di dire potete commentare il link lo trovate qui sotto non ci sono problemi per qualsiasi tipo di commento vi aspetto mercoledì e un'ultima cosa ve l'avevo già accennato la settimana scorsa oggi è mercoledì 9 e da dopo domani se siete in zona se magari io ho piacere spero anche voi ci possiamo conoscere alla fiera di carrara e avrò il mio stand ci possiamo stringere la mano sarà un piacere e ci sarà un cangettino per tutti va bene fatevi riconoscere a me è semplice riconoscere perché mi vedete eccomi qua ci vediamo mercoledì o a carrara in questo fine settimana buona giornata